Anche nel territorio aretino della ASL Toscana Sud-Est sono operative le nuove linee guida sulle quarantene nelle scuole. Con queste disposizioni in presenza di un caso positivo in classe, la centrale di tracciamento segnala il caso scolastico al Dipartimento di Prevenzione che dopo aver contattato la dirigenza scolastica in collaborazione con quest'ultima, provvede a mettere tutti gli studenti nello stato di sorveglianza attiva. Questo significa che entro un tempo massimo di 48 ore dovranno effettuare un tampone antigenico rapido denominato T0. Se il risultato sarà negativo potranno rientrare a scuola per poi ripetere lo stesso test, a questo punto chiamato T5, cioè dopo 5 giorni. I tamponi potranno essere effettuati in farmacia dal pediatra, dai medici di medicina generale o nei drive disposti dall'azienda. Se poi in una classe sono segnalati due positivi, gli alunni vaccinati seguiranno sempre il metodo dei due tamponi rapidi, mentre i non vaccinati saranno posti in quarantena. Va in quarantena tutta la classe, invece, se i casi di positivi sono tre. Intanto, dal report scuole della ASL Toscana Sud-Est arrivano i numeri riguardanti i casi Covid in ambito scolastico. Ad oggi ci sono 74 persone, di cui 63 studenti, 9 insegnanti e 2 che fanno parte del personale ATA positivi. L'incidenza maggiore è nella fascia 6-14. 38 sono infatti le classi di studenti delle scuole elementari in quarantena, 28 delle scuole medie e 16 delle superiori. Le nuove regole non valgono per le scuole dell'infanzia. Se c'è un solo caso positivo, i bimbi fino a 6 anni vanno in quarantena per 10 giorni insieme al personale scolastico. Al momento, tra nido ed infanzia, in provincia di Arezzo, ci sono 7 classi in quarantena.